È stata una bellissima serata quella di ieri sera, devo dire la verità. L'abbiamo inaugurato questa pista polivalente che ridà funzionalità a un'area che sarà indubbiamente fruita anche dalle scolaresche, qua nei periodi scolastici, proprio di fianco alle scuole, ma anche da tutti coloro che vogliono passare lì dei momenti di socializzazione, di sport e di voler stare insieme. La cosa che ci tengo molto, ripeto, lì c'era in passato la palestra di Montemaggiore, che è crollata con il nevone del 2012. Quindi noi con questo atto abbiamo ridato vita a un'area che era andata in disuso, diciamo così, miseramente purtroppo, e che oggi invece rivive di luce propria. La palestra invece che lì funzionava e che serve al territorio, quindi in questo stesso momento c'è una nuova palestra che di fatto è pronta, dove era la vecchia palestra è nata questa pista polivalente e di fianco alla nuova palestra, tramite una variante, si era realizzato anche un capiente parcheggio che effettivamente mancava ed era stato fortemente sollevato questo problema da parte anche della popolazione. C'è anche tutta una calendarizzazione di azioni che farete proprio sul fronte delle opere pubbliche che avete messo in campo? Beh, ci sono molte cose in movimento. Diciamo che la più interessante per quello che è l'obiettivo dell'amministrazione comunale è dare una sede unica al comune di Coglia al Metauro. I lavori della scuola Dezzi di Saltara e scuola elementare sono già iniziati. Il prossimo anno, settembre, ovviamente non questo, ma il prossimo anno sarà riaperta quella scuola, quindi la sede della delegazione comunale di Calcinelli che oggi è occupata dalle classi della scuola Dezzi sgomberata dopo il terremoto di quattro anni fa, riprenderà la sua autonomia e a quel punto con dei lavori di adeguamento diventerà la sede del comune di Coglia al Metauro, più funzionale, più la portata di mano per tutti in una zona baricentica che è quella di Calcinelli. Ecco, io tutto questo ovviamente lo voglio portare a termine entro questa legislatura per dare anche visivamente corpo e futuro a questo nuovo comune.